Come si mangia la domenica pranzo in Calabria parte 2 Come già ribadito, il pranzo della domenica in Calabria vuol dire solo una cosa Devasse Siamo all'azienda Molla Fagnono Castella e questo è il loro pranzo della domenica Ma dopo il vino di casa inizia a mangiare di tutto Chiudi il pecorino nella fetta di prosciutto crudo di suino nero di Calabria Scambi la pancetta per una collana e inizia a santificare la soppressata stagionata nel vino Allucinante, ma questo è solo l'inizio E mentre pensi di digerire con i peperoni cruschi Arriva il restante antipasto, pulpette fritte, culluri, soppressata fritta e salsiccia di fegato E quando pensi ormai di essere devastato e di non farcela più senti l'odore dei maccarroni al sugo Con la carne d'accompagnamento, cotiche, costine e salsiccia Le analisi del sangue ti sembreranno una vecchia schedina del totocalcio Ma del resto è tutto così bello e buono Talmente buono che non resisti al richiamo della teglia con il sugo Ci fai la scarpetta e te la mangi come me, come un parcoso sbrodaloso Viste le tante richieste, ecco Grazie a tutti